Preciso, un po' larghino, perfetto, geometrico, fantastico, un pittore impressionista. La messa lì, due pennellate, secche e naturali. Eccoci in diretta sulla griglia di partenza della classe MotoGP, dove i piloti e i tecnici stanno discutendo gli ultimi dettagli prima dell'inizio della gara. Mentre i commissari svento... ... Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti.